musica musica bello come cominciate io sono semmonzer512 e io sono masterjohnix oggi siamo qui per fare gli scritti ricambi e sarà un po' difficile da prendere però dato che siamo in due io sono masterjohnix e lui semmonzer512 come abbiamo detto e andare nei commenti e scrivere simon0512 iscritto ricambi oppure masterjohnix iscritto ricambi quando ve l'avete scritto ovviamente vi iscrivete prima dopo noi ci ha capito un cazzo di quello che ha scritto iscritto ricambi e vediamo se si è scritto se non risulta noi non ci iscriviamo se lui l'ha bloccato che uno non può visualizzare andiamo sul nostro profilo facciamo iscritti al nostro canale e lo controlliamo noi abbiamo due canale diverso masterjohnix e semmonzer512 l'avete già detto allora mi raccomando iscrivetevi noi appena lo visualizziamo ci iscriviamo veramente perfetto e non seguite i canali però bella raga bella raga perfetto il bella raga dice tutto bestia che supercazzola non ci ho capito un cazzo ok non mi piace non mi piacciono neanche le pettinature da carciofo e non faccio iscritto ricambi chiudere è